La tifoseria pescarese o perlomeno i Pescara Rangers prendono posizione. In un comunicato, duro, crudo, che non dà adito ad alcune incomprensioni, l'ala calda e storica della tifoseria bianca-azzurra prende una posizione e non fa sconti a nessuno. Ci si chiedeva fino a quando la situazione di tranquillità intorno ad una squadra che delude già da qualche tempo poteva andare avanti. La risposta è arrivata. Il tempo per gli ultras del Pescara è scaduto. Nel comunicato non si fanno sconti. A nessuno. Ai giocatori, ai quali si ricorda che la bella vita non deve far parte del bagaglio culturale e tecnico di coloro che vestono la maglia del Pescara. Dunque il credito a loro disposizione è finito. All'allenatore, al quale si fa risalire la colpa se la squadra non vince, visto che i giocatori da mandare in campo li sceglie lui e la squadra la prepara lui. Se non ci riesce, Baroni è invitato a fare le valigie e lasciare Pescara al più presto. Alla società, ritenuta la responsabile principale dei risultati di questi ultimi anni. Date una svolta nel brevissimo tempo, si dice, oppure andatevene tutti. I destinatari in questo caso sono in primis il presidente Daniele Sebastiani e l'amministratore delegato Danilo Iannascoli, accusati di non saper gestire la squadra. La porta dalla quale siete entrati, si legge ancora nella nota, è la stessa dalla quale dovrete uscire immediatamente se le cose non cambieranno. Nel comunicato si annunciano anche le iniziative che saranno adottate. La prima, domani, annuncia che i tifosi entreranno in curva dopo 15 minuti di partita e che il settore centrale della curva nord Marco Mazza resterà vuoto per tutta la durata della gara. Nessuno, si legge, dovrà prendere posto nello spazio centrale e la cosa sarà fatta rispettare a tutti i costi, con le buone o con le cattive. I Rangers, inoltre, annunciano che la scelta sarà portata avanti a tempo indeterminato, ma anche che in trasferta, come è sempre fatto, continueranno ad andare. Chiaro che la pazienza è finita e che da domani in poi l'atteggiamento della tifoseria calda cambierà. Giocatori, società e allenatore sono stati avvisati. Grazie a tutti.